Vi dà la larga per Paul Pogba, limite dell'area di rigore, destro di Pogba e la palla in rete a Juventus Cala e Poker con Paul Pogba perché questo è un fenomeno, questo è un fenomeno, questo è un fenomeno, al minuto numero 33, Juventus 4, Samporia 2, con la bomba da fuori aria di Paul Pogba Quadraso, il fiero, attenzione, verso Pogba, Pogba, destro di Pogba e la palla in rete a Juventus in vantaggio con Paul Pogba a Juventus numero 19, Juventus 1, corre lo 0, corre il missile di Paul Pogba Juventus ancora, Juventus 7, tentativo di tiro, Pogba e la palla in rete a Juventus in vantaggio con Paul Pogba un gol straordinario, a Juventus numero 29, una voleva meravigliosa, è cambiato il punteggio a San Paolo, Napoli 0, Juventus e la Juventus ha segnato il numero 6, Pogba e la palla in rete a Juventus diорolionuien a Juventus Grazie a tutti.